Musica Fratelli e sorelle, pace nel Signore, vogliamo insieme leggere dalla parola di Dio. Leggiamo dal Vangelo di Marco al capitolo 4, dal verso 35 fino al verso 41. Vediamo a Dio tutta la lode e la gloria. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro, passiamo all'altra riva. I discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era nella barca. C'erano delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero, maestro, non ti importa che noi moriamo? Egli svegliato si sgridò il vento e disse al mare, taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro, perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e dicevano gli uni agli altri, chi è dunque costui, al quale persino il vento e il mare gli ubbidiscono? Maestro, non ti importa che moriamo? Maestro, non ti importa? E questa domanda dei discepoli che si trovano in difficoltà riporta alla nostra mente il disinteresse che a volte circonda ed è presente nella nostra società. Disinteresse verso gli altri, disinteresse a volte verso i bisognosi. Ma certamente questo sentimento non è mai stato e non è nel cuore del Signore Gesù. Certamente Gesù non ha mai mostrato indifferenza verso l'altro. Egli è venuto nel mondo per l'altro. Egli è venuto nel mondo per salvare gli uomini, per salvare ognuno di noi. Ma i discepoli in difficoltà parlano al Signore, gli pongono questa domanda che è un misto fra una domanda e una preghiera. Maestro, non ti importa? Mi verrebbe quasi da dire che è una preghiera mal riuscita. Forse avrebbero voluto dire, Signore aiutaci, Maestro, prenditi cura di noi. E invece, rivolgendosi a Gesù, gli dicono, Maestro, non ti importa. Gesù gli aveva già dimostrato tutto l'interesse che aveva nei loro riguardi. Lo aveva fatto, ad esempio, nel momento in cui li aveva scelti e li aveva chiamati come suoi discepoli. Sempre il Vangelo di Marco, al capitolo 3, verso 13, dice che Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che egli volle. Dunque, Gesù non fu mai indifferente verso l'altro e certamente non fu mai indifferente verso i discepoli. Li chiamò. I discepoli sono stati anche spettatori del suo interesse verso gli altri. Quante volte Gesù ha insegnato di Gesù. Il Vangelo di Marco ci riporta queste parole conosciute, molto conosciute, al capitolo 1, quando è detto che tutti si stupirono del suo insegnamento e si domandavano cos'è mai questo. È un insegnamento dato con autorità. Dunque, Gesù non era indifferente. Non era indifferente verso i discepoli. Non fu indifferente verso gli altri. I discepoli erano stati spettatori quando Gesù aveva guarito le persone. Sempre al capitolo 3 è detto che Gesù disse ai suoi discepoli che gli tenessero sempre pronta una barchetta per non farsi pigiare dalla folla. Perché avendone guariti molti, tutti quelli che avevano qualche malattia gli si presentavano addosso per toccarlo. Maestro, non ti importa? Gesù aveva dimostrato tante volte di interessarsi agli altri. Eppure nel momento della difficoltà, dalla bocca dei discepoli esce fuori questa domanda. Qualcuno potrebbe dire che in realtà si tratta della situazione che li ha forzati ad esprimersi così. Sì, forse. O forse si tratta di alcuni sentimenti o di alcune credenze, di alcune convinzioni che i discepoli avevano già nel loro cuore e che sono venuti a galla nel momento della difficoltà. Perché a volte avviene. Nel momento della difficoltà, a volte, viene fuori chi siamo davvero. E forse i discepoli avevano la concezione errata che essere discepoli del Signore, del Maestro, voleva dire non incontrare mai un certo tipo di problema. E perché qui il problema è bello grosso, dice il testo che l'acqua incominciava ad entrare nella loro barca. Forse avevano dato per scontato il fatto che, essendo discepoli di Cristo, tutto questo a loro non poteva capitare. Non solo. Ma Gesù parla anche del fatto che questi discepoli erano paurosi. Glielo dice chiaramente, viene riportato al versetto 40, perché siete così paurosi? Ora, la Bibbia, in merito alla paura, il libro dei Proverbi, al capitolo 29, verso 25, dice che la paura degli uomini è una trappola. Ma chi confida nel Signore è al sicuro. Forse l'occasione di quella tempesta ha portato a galla alcune paure che i discepoli avevano. Perché, dice Gesù, siete così paurosi? Non solo, ma nell'epistola, nella prima epistola di Giovanni, al capitolo 4, verso 18, è scritto che nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Maestro, maestro, non ti importa? Certo che a Gesù importava di loro, ma in questa occasione viene fuori dalle labbra dei discepoli questa domanda, che manifesta un fatto. Questi discepoli conoscevano ancora poco Gesù. Guardate al verso 41, quando Gesù li libererà da questa prova, quando Gesù sgriderà il vento e il mare si calmerà, quando il vento cesserà, quando si fece gran bonaccia, si parlarono l'un l'altro e dissero chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare gli ubbidiscono? Non avevano ben capito. Maestro, non ti importa? Oh, certo che al Maestro importa. Certo che al Maestro importava dei discepoli allora e importa di noi oggi. Una volta il Signore permette certe situazioni nella nostra vita, certe prove, certe avversità, perché possiamo renderci conto di alcune cose che nella nostra vita non vanno bene e delle quali forse fino a quel momento nemmeno noi ci siamo resi conto. Allora Gesù a volte permette che ci siano delle situazioni per far venire a galla ciò che non va, affinché possiamo elevare al Signore la nostra preghiera e dire anche noi al Signore, come i discepoli, Signore aiutaci, perché Egli ci viene incontro, si prende cura di noi. Ciò di cui ci dobbiamo preoccupare è che Gesù sia nella nostra barca, perché se Gesù è nella nostra barca i momenti di difficoltà non saranno una tragedia, ma saranno un momento in cui Egli ci insegnerà, ci formerà, ci farà capire ciò che non va nella nostra vita e poi ci libererà. Maestro non ti importa? Certo a Gesù importa, ha dato la sua vita per noi. Possa Dio benedire la tua vita e se ti trovi in un momento di difficoltà, se la tua barca incomincia a fare un po' d'acqua, chiedi al Signore, Signore, entra nella mia barca, prenditi cura di me ed Egli lo farà e Dio vi benedica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.